Ciao a tutti ragazzi, sono Alien e vi porto un video senza commento sulla beta di The Division giocata su PC ed in particolare sull'unica missione di storia presente. Brevemente ecco le caratteristiche del mio computer, un Alienware Aurora R3 con processore i7-2600K 3.40GHz, 8GB di RAM e un Nvidia GTX 970 G1 Gaming con driver versione 361.79 ottimizzato per The Division. Gioco a dettagli alti con visi in cattivo e in generale il gioco resta abbastanza stabile sui 60 fotogrammi al secondo a 1080p per la maggior parte del tempo, eccezione fatta nelle situazioni un po' più caotiche dove il framerate scende sia ad un minimo di 45-46 frame al secondo. Ho registrato il video con l'NVidia Shadowplay e ho lasciato le statistiche più importanti in alto a sinistra. Enjoy! Questa Candle e il suo staff, quel personale ci serve alla base per mettere in funzione il dipartimento medico. Andiamo qui a coprirti le spade. Che diavolo! Sì! Ehi, questa è cacca nostra! È tutto nostro ormai! L'ho tirato il spazio! Da qua! L'ho preso! Cazzo, controllati! Cazzo! 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 Se mi inserisci nel sistema di sicurezza forse posso trovare la posizione della Kender. Sono dentro. Vediamo cosa provo. Riesci a vedere le telecamere a circuito chiuso? Sembra che la Kender e il suo staff stiano curando forzatamente i loro feriti. È per questo che sono ancora vivi. Sembra che abbiano gente al piano di sopra in un ristorante. Ce ne sono un sacco ma stando al riparo si dovrebbe riuscire a eliminarli senza diventare un bersaglio. Se vedete qualcosa sparate subito. Guardate in cercare. Prendete lo staff! Non chiedetemi questa roba di roba! Un bel respiro! Una bestia al macerio! Il campione faderà! Rilevati altri nemici! 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 L'hanno preso. Sistemiamo la partita. Attenzione, rilevati altri nemici. Attenzione, rilevati altri nemici. Non ci credo. Kendall è di sopra con il suo staff, nella cucina di Cobis. Pare che abbiano letteralmente devastato il posto. A mio padre si sarebbe spezzato il cuore a vederlo così. Ci guardavamo le partite insieme. In fondo è meglio che i miei genitori non abbiano fatto in tempo a vedere tutto questo. Poi penso alla gente che fa di tutto per tirare avanti. È per loro che lo stiamo facendo. Forza, gente! Per arrivare da Cobis dovrai passare da alcune aree contaminate. Prima che venissero uccisi, c'erano molti malati in cura lì. Fai attenzione. Fai attenzione. Fai attenzione! che ci vuole così tanto tiriamoci indietro scopritemi E' ora di farla finita! Forza, nemmeno! Ci fanno fuori! Tenete giù la testa e state in silenzio! Attenzione! Rilevati i nemici! Divisca! Troppo! Vediamo un'altra volta! A partecipare! La scorta è sotto attacco dal tetto. Non può muoversi finché non vai lassù a uccidere l'artigliere. Siamo inchiodati. Non c'è modo di uscirne vivi se qualcuno non va lassù a sistemare le mitragliatrici. Tocca a te, agente. Scorta Alfa, abbiamo un agente sul tetto. La Candle vi ha raggiunto? Affermativo. È appena arrivata con il suo staff. Se riuscite a liberarci dai nemici sul tetto, possiamo portarvela in sicurezza. Non c'è nulla, non c'è nulla. Attenzione! Altri nemici in arrivo. Chissà! La scontella! La scontella! Chissà! Prendete in lavoro, troppo! Tornata, stiamo in piedica! E' finito! Sparate! Oh merda! Attenzione! Altri nemici in arrivo! Attenzione! SONER FIERO! FIERON! LOS SONERFITS! FIERON! FIERON! ARCH! SONERFITS! I medici sono in salvo. Abbiamo la Kendall e tutto il suo staff. Nessun ferito. È un buon inizio, agente. Sarebbe stato bello poter lavorare prima con te, ma saremo comunque un'ottima squadra. Dal tuo ritorno alla base, parleremo con la dottoressa Kendall per capire cosa può fare per noi. Sarebbe stato bello poter lavorare.